Perché siete tutti qui? Lins è di nuovo fuori controllo! Mettetevi in salvo! Lins, la vampira più pericolosa! Guardatevi che fifoni! Non è divertente? Se cadi, perdi! Ecco un premio di consolazione! Eccellente! Ed ecco la mia meritata ricompensa! Il pranzo tanto atteso! Ehi! Abbi paura! Un mucchio di fazzoletti? È stato il vento a portarti qui? Ehi, smettetela! Mummia, la perdente onoraria della scuola! Grazie, signor preside! No, grazie a te! Cosa sta succedendo? Fermi! Cosa? Chi è quello? Che perdente! Sono il preside! Il preside! L'unico essere umano della scuola! Ecco, tieni, non piangere! Grazie, lo apprezzo! Oh! Cos'ha che non va? Preside, no! Un morso risolverà tutto! Non osare! Scusa, ho fame! Dobbiamo scoprire cos'è successo! Detective zombie! Nessun indizio mi sfuggerà! Oh, tesoro! Perché? Fatto! Primo indizio! Il corpo del preside! Ah, c'è una barriera qui! È opera tua? È sale! Spero che non danneggi morti! A chi importa? I miei capelli sono ancora perfetti, vero? Ehi, dammelo! Serve per le indagini! Esatto! Il preside è vivo! È in buona forma! Aspetta, lo useremo per qualcos'altro! Respira? Sembra di sì! È in coma! Capito! Timbriamo! Nascondiamo il corpo fino alla fine delle indagini! Quale corpo? Fatemi vedere! Amore mio, perché mi hai lasciata? Signorina Lily, c'è la polizia! Cosa? Ragazze, cos'hanno le vostre facce, eh? Oh no, nascondetevi! Posso offrirvi qualcosa? Ecco, ho spaventato di nuovo tutti! Pensavo che saremmo diventati amici! Ehi, che succede? Ho un ultimo desiderio! Non ce la faccio più! Silenzio, Lins! È una ciambella? Pensavo che ci avrebbe sparato! Perché ci è spaventate? Chi c'è? Confessa, mortale! Indietro! Fermati! Vogliamo solo parlare! Ci risiamo! Oh, davvero? Sei in arresto! Cosa? L'hai voluta tu! Non interferire! Riprenditela! È ora del tè! Cosa c'è che non va in lui? Trova il colpevole! Fammi vedere! L'ho già visto prima! Come sbarazzarsi del preside! Sospetto! È tuo il libro? O tuo? Di cosa stai parlando? Qualcuno sta nascondendo qualcosa! Forse tu? Non capisco di cosa stai parlando! Non fare lo stupido! No, non è lui! No! Allora, dove cercarlo? Non lo so! Va tutto bene! È qui! Lizzie? Se n'è andato! Impossibile! È terribile! Oh no! Che giornata! Vi dispiace se mi sdraio un po'? Puzza peggio di una persona morta! Mi sono perso qualcosa! Che schifo! Ah! Ecco il ragazzo della foto! Caso risolto! Buona giornata! E buona fortuna! È semplicemente inutile! Lins? È bello riaverti qui! Buon appetito a me! Ferma! Ma Lizzie! Non mangiamo sulla scena del crimine! Così è più sicuro! E non interferire più con le indagini! Ehi! Non c'entro niente! Ottimo lavoro! Che ore sono? Oh! Devo lasciarvi! Un po' di zucchero! Adoro il tè! È ancora meglio ascoltando i successi d'oro! I dolci non sono mai troppi! Cos'è questa musica orribile e insopportabile? Tic-tic-slim! Basta! Assolutamente no! Sei ancora qui? Perché non canti? No! Questa è la mia occasione! Lizzie va alla grande! Mi dispiace un po' per lui! Non vorrei incrociare la sua strada! Aspetterò qui che finisca la tempesta! Mi dispiace! Sto bene! Non sembra! I'll be back! Lins? Ok! È iniziata così! Davvero? Ciao, Lins! Vampiri! Yo! Sono un agente di polizia! Noioso! Ehi, Lins! Ora sono una di voi! Stai scherzando! Ok! Ma non cadere! Perché gira tutto! Wow! Ah! Sei tu? Regola numero tre! Non si mangiano gli studenti! Coprimi! Non mi sento bene! L'hai voluta tu! Rilassati, signorina! Così non va! Scusa, ha iniziato lui! Ah, perché? Per non avercelo detto prima! Sei sospettata! Forse sei stato tu? Esatto! Bah, bah, bah! Sei doppiamente sospettata! Aspettate! Ho detto che non sono colpevole! Credetemi! Non sembra convincente! Bene, allora continuo! Ecco dove ti nascondi! Sto arrivando! Aspettami! Basta fare prove! Ciao! Mi vendicherò di tutto! Andiamo! Bene, bene, bene! Che cos'è? Ehi, sanguisuga! Vuoi essere cool come me? Allora, ripeti, dopo di me! Fantastico! Voglio provarci anch'io! È ora di realizzare il mio sogno! Mi chiedo cosa ne verrà fuori! Eccellente! Facciamo un tentativo! Wow! Non me l'aspettavo! Un topo! Sembra che non fosse l'appozione giusta! Basta, ordino online! Piccola palla di pelo! Oh, che ti succede? Oh, è finita! Non sono diventato un vampiro! Non essere triste, ce la farai! Aspetta, posso aiutarti! Iniziamo dal trucco! Chiudi gli occhi! Fantastico! Sembri un vero vampiro! Wow! Hai fatto un ottimo lavoro! Grazie! Facciamo una passeggiata! È così bello qui! È bello stare con te! È vero! Buon appetito! Sono a dieta! Penso che questo sia ipocalorico! Adoro il piccante! Mettila, mi viene da starnutire! Permettimi di accompagnarti, mia cara! Ah, beccati! Prova a prendermi! Mi sfuggono sempre! Ah, ah! Non riesci a tenere il passo con la nostra danza! Sapevi che questi sono tutti i miei premi? Sei meravigliosa! Anche tu! Ehi, stai attento! Gli darò una lezione! Lins, voglio darti il mio cuore! È così dolce! Ti darei anche la mano, ma non è igienico! Terrò questo tesoro per sempre! Aspetta un secondo! Penso di aver notato qualcosa! Lins, voglio darti il mio cuore! Quel mascalzone! Se non posso averlo io, allora non lo avrà nessuno! Lo sapevo, ecco la nostra sospettata! Cosa? Io lo amavo! Infatti è il tuo muovente! Calma, risolverò la questione velocemente! Ma è tutto così confuso! Cosa? Va bene, mi hanno preso! Sei stato tu! Che stupido! Spostati! Ecco chi dovremmo interrogare! Non sono stata io! Dimostracelo! E niente urla! Così va meglio! Sono di nuovo fuori dai sospettati! Mi sono perso qualcosa? Quindi è stata lei? Tiralo fuori! Che mucchio di idioti! Come hai fatto a non capirlo? Ora vuota il sacco! Va bene, è successo così! Ricordate, questo sarà nel test! Oh, dove sono? Mi state ascoltando? Bene, vengo a scuola solo per te, mio caro! Buona giornata a tutti! Ho un annuncio importante! Ah, guardalo! Come si crede importante! Ehi, la smettete di disturbare! Cosa? Non rompere! Perdente! Non state ascoltando? Sono invisibile per voi! Cosa sta succedendo? Smettetela subito! Non vedete che il preside è in classe? Mostrate un po' di rispetto! Per favore, continua! Sgrazie mille! Dove eravamo? Quest'anno è così carino quando è nervoso! Diventeremo la scuola onoraria dei mostri belli! Oh, preside! Mi chiedo se è in giro! Vediamo! Perché guarda quello? So cosa fare! Finalmente, ora mi occuperò di lui! Non sbirciate! Linz, questo cuore è per te! Cosa? Non può essere! Come hai potuto? Non tollero la concorrenza! Ti ho presa! Sei in arresto! Ma non gli farei mai del male! Ho risolto il caso! Colpevole! Ma perché? Fatti da parte! Poverina! Ti ho spezzato il cuore! Avrei fatto la stessa cosa! Allora, lasciatemi continuare! Non lascerò che nessun altro ti abbia! Non sparare! Che cos'è? Acqua santa! E non è per te! Salve! Tentato omicidio! Pow! Pow! Oh, aspetta un secondo! Boom! Anche un manganello spara una volta all'anno! Ho finito i proiettili! Non essere triste! Lasciami in pace! Va bene! Sei strano! Cos'è successo? Non lo so! Quindi non sono stata io! Oh, state facendo una festa a te! Ma permettetemi di farvi una foto! Ok! Cheese! Semplicemente meravigliosi! Cambiate posa! Così? Eh! Un capolavoro! Facciamone qualcun'altra! Sorridete! Perfetto! Mostracci le foto! Ecco qua! Volete vedere? Sono venute benissimo! Oh! Guardate! Questa foto non è stata scattata qui! Presto! Che cosa c'è? Sono foto della scena del crimine! Sembra che tra noi ci sia un lupo travestito da agnello! Quindi l'hai capito! Avevo pianificato tutto fin dall'inizio! Ho fatto finta di fare la brava ragazza per togliermi di dosso ogni sospetto! Guardate che ho portato! Provate a spaventarla! Mostrale quanto sei mostruosa! Ci proverò! Come va, piccola? Boo! Bel lavoro, Lizzie! Ah! È stato facile! Voglio la mia mamma! Lins, vuoi provarci? Facile! Una vampira! Wow! Che risultato! Sembra che abbiamo un nuovo record! Eccellente, Lins! A più! Chi vuole provare adesso? Casey? Oh! Oh! È divertente! Mi piace! Dovresti aver paura! È divertente! Mi dispiace, Casey, ma prendi D! Non siamo qui per far ridere i bambini! Che fallimento! No, no! Smettetela! E se fosse contagiosa? Perché fate così? Buongiorno! Annuncio importante! Oh, guarda quel ragazzo con i baffi! Si crede importante! E smettetela! Non riesco a sentire niente! Parli con me? Non osare zittirmi, perdente! Ehi, non mi state ascoltando? Non avete bisogno di me? Oh, non questo! Siete ciechi? Scusa, signorina Lily! Così va meglio! Continua, preside! Grazie! Quindi, la nostra scuola? Prendi questo, nerd! È colpa vostra! Ne ho abbastanza! Nessuno riderà più di me! Ah, e così sia! Mettetevi in salvo! Allora, sono abbastanza spaventosa adesso! Non avvicinarti, per favore! Risparmiaci! Troppo tardi! Non ti ho fatto niente! Lasciami in pace! Questo era lo scopo della mia lezione! Adesso tutti hanno paura di lei! Brava! È stato magnifico! Non hai gli uguali! Cambio il tuo voto in una A più! Ben fatto! L'orgoglio della scuola! E dai! Linz, smettila! Posso mangiare almeno una volta! Sono fiera di te! Ehi, siete tutti così noiosi! E il preside? Devo controllare! Mi stavi aspettando? Ti mordo! Oh, sono un vampiro! Incredibile! Ma ho ancora fame! Cosa mangiare? Ah! Ottimo travestimento! Nessuno immaginerà che sono un vampiro! Ed ecco il mio pranzo! Mmm, fresco! Proprio quello di qui avevo bisogno! Chi siete? Deve essere stata la mia immaginazione! Vabbè! Un cocktail party! Oh, sta arrivando qualcuno! Damon, cosa fai? Comunque, ecco la nostra nuova infermiera! Questa è Linz! Ciao! Ehi! Così va meglio! Ehi, fratello! Non berrai nemmeno una goccia di sangue! Vuoi scommettere che ne berrò di più io? Perderai! Bene, preparati a perdere! Mi preparerò alla tua sconfitta! Continua a sognare! Ci siamo quasi! Non preoccuparti, signorina Ellie! Ci prenderemo cura di te! Oh, penso che questa sia la mia occasione! Ancora più facile di quanto pensassi! È ora di pranzo! Troppo lento, Damon! Guardala! Ma non è ancora finita! Consideralo un vantaggio! Sfruttalo! Nemmeno un singolo cliente! Guarda e impara! Venite da me! Ho offerte migliori! Smettila! Stava venendo da me! Offro uno sconto del 20%! Alzo la posta in gioco! Oh, sono così combattuto! Chi dovrai scegliere? Massaggio alla testa gratuito e incluso! Va bene? Oh, assolutamente! Andiamo allora! Sei in cerca di guai! Quando la dottoressa capo lo scoprirà sarai finita! Bene, bene! Ho bisogno di prove concrete! Eccola! Peccata! Lynn tortura i suoi pazienti! Di cosa stai parlando? Guarda! Cos'è successo? Ma l'ho visto! Basta! Non capisci! Non stavo mentendo! Non ha funzionato, Damon! Sono ancora avanti! Oh, davvero? Ricorda solo questo! Non lo dimenticherò! Quella lì sporta solo guai! Eccola di nuovo! Andrà tutto bene! Facciamo una radiografia! Questa volta non ci riuscirai! È una procedura standard! Per favore, mettiti dietro lo schermo! Ah, ne ho presa un'altra! Tempismo perfetto! Non ingannerai la dottoressa! È geniale! Adesso sarà sicuramente licenziata! Dottoressa, l'ins non è chi dice di essere! Guarda tu stessa! Cosa? Ah! I miei occhi! Damon, stavi cercando di accecarmi! Ma scalzone! Cosa? Cos'è successo? Oh, quella l'ins! Me la pagherai! Ehi, hai perso qualcosa? Come la tua vittoria, forse? È insopportabile! Devo farcela! È impossibile! Damon, sono stufa delle tue sciocche teorie! Ma lei è davvero un vampiro! Mi dirai anche che i lupi mannari esistono? Ciao! Ehi, amico! Guarda cos'ho! È per me? Sì, ma prima ho bisogno di un piccolo favore! Lo avrai dopo essere andato da lei! Il suo studio è proprio lì! Posso aiutarti? Mettiti in salvo! Ah, hai scelto la battaglia sbagliata! È il tuo cagnolino! Bravo! Cosa? Traditore! Oh, e grazie per l'animaletto! Vuoi giocare con noi? Oh, no! Una palla! No! Ah, che incubo! Oh, ecco chi arriva il mio spuntino! Ehi, non prendermi di sorpresa! Ma sono un dottore! Stavo per visitarti! Dove l'hai preso è mio! Vai! Per la tua strada! Dove posso trovare del sangue? Conosco un posto! La banca del sangue! Damon, stai cercando queste? Ahah! Fuori di qui! È tutto mio! È insopportabile! Aspetta, la dottoressa deve vederlo! Oh, sei qui! È rotto? Ti perderai qualcosa di grosso! Lynn sta rubando sangue! Pensavi che stessi scherzando? Oh, no! Dov'è finito tutto? Continuo a dirtelo! Lei è un vampiro! Cosa ho fatto? Devo uscire di qui velocemente! Ah, sei qui! Damon? Oh, il cacciatore è arrivato! Sei tu? Non gli somigli! Cosa? Avete una vecchia foto! Quello è mio fratello! Ecco, guardate! Oh, le mie scuse! Allora, dove sono i vampiri? Eh, sarà meglio che vada! Forse vorresti dell'aglio? Prepariamo una trappola per quella sanguisuga! L'esca perfetta! Nessun vampiro può resistere! E questo nel caso in cui si trasformino in pipistrelli! Fatto! Questi non aiuteranno, a differenza dell'aglio! Attenzione, vampiri! Sembra che io sia nei guai! Comportati in modo normale! Bene, bene, è di nuovo lei! Oh, il mio ginocchio! Hai bisogno di aiuto? Fammi dare un'occhiata! Ti piace? Sei un miracolo! Il dottore è sparito! Non è tutto! Pensavi che me ne fossi dimenticato? Mi piace ancora di più così! Perfetto! Non sospetterà nulla! Guarda questo vampiro! È un capolavoro! Possiamo chiamare il cacciatore adesso! Finalmente se n'è andato! Che idiota! Grazie per il dessert, Damon! Adesso puoi riposarti! Un altro punto per me! Guarda, ho trovato questo vampiro! Mi ha quasi morso! Fammi dare un'occhiata! Questi sono segni di morsi! Ottimo lavoro! Quali segni di morsi? Bene, amico, vado! Ciao! Beh, semplicemente fantastico! Grazie per il regalo, Damon! Mi assicurerò che non ci sia più nessun posto in cui potrai nasconderti, Pipistrello! Stai chiedendo un paletto nel cuore? Tornate al lavoro, fannulloni! Diamo inizio all'intervento! Oh, brucia! Sono d'argento? Cosa devo fare con voi due? Riportatela in vita! Con questi? Va bene allora! Libera! Non sembra aver funzionato! Iniziamo l'intervento! Quindi questo va qui... E qui... Qual è il prossimo? Oh, è tutto in cinese! Il fegato va qui... E questo sembra il cuore! Oh, si adatta perfettamente! Ottimo! È ora di chiudere! Con delicatezza! Finalmente! Signorina, sta bene? Ehi! Bene allora, l'intervento è fatto! Oh, penso che dovrei estraiarmi! Sei fatta di pietra? Cosa? I miei denti! Non le zanne ne ho bisogno! Dottoressa, ho urgentemente bisogno del tuo aiuto! Mi sono caduti i denti! Per favore! Calma, ti sei nel posto giusto! Controlliamo! Oh, che casino! Sistiamo subito! Come nuove! Davvero? Posso dare un'occhiata? Sono Spongebob! Affilale! Oh, sono cambiata e ora ho! Oh, mi stai prendendo in giro! Ah-ah! Sei tu! Oh, l'hai capito! Guarda questo tricheco! Calmati, il cacciatore è vicino! Oh no, non lui! Ah! La mia testa! Zanne? Oh, proprio quello di cui avevo bisogno! Mi siete mancate! Ti piacciono le mie zanne? Ho bisogno di un esame! Oh, facile! Come una puntura di zanzara! Ah, è una vera zanzara! Fatto! Possiamo procedere! Signorina, sei perfettamente sana! Ora! Puoi andartene! Mmm! È fresco, ma... Ho un'idea! Lo rimetto via! Oh, che disgusto! Come fanno a mangiarlo? Damon lo adorerà! Ehi, amico! Puoi controllare i globuli rossi! Perché tutta questa generosità? Con piacere! Non ho bevuto una singola goccia di sangue oggi! Ah! Ah! La mia gola! Quale scegliere? Banana o mirtillo? Oh! Mmm! Buono! Non ho mai mangiato niente del genere in vita mia! Ehi, sono miei! Stai parlando con noi? Ah, vampiri! Che fifona! Esatto! Che amica che sei! Bene, allora! Aiuto! Oh, che carino! Sbrighiamoci! È una gag? Vuoi una caramella? No, grazie, sono a dieta! Com'è finito qui? Wow! È un intero lenzuolo! E vai! Grazie, dottore! Ferma questo circo! Uh! Palloncini! Non puoi scappare adesso! Ah? Che cosa è stato? Ti è piaciuto il mio trucco? Grazie per l'aiuto! Tienilo! Sei ancora qui? Che noia! Oh, lo so! È ora di chiamare le ragazze! È passato così tanto da quando ci siamo incontrate! Ehi, Lins! Sì, sì, arriveremo presto! È da tanto che non ci vediamo! Ciao, care! Ragazze, sono annoiata da morire! So cosa ti tirerà sul morale! È fantastico! Chi è? Nascondetevi! Lins, cos'è tutto questo rumore? Firma questi documenti! C'è mancato poco! Prego! Bene, continua a lavorare! Cos'è quello? Scusa! Oh, uscite! Se n'è andata! Aspetta, dov'è Mary? Ah! Mary! Stai bene? Tira fuori il sangue! Sembra che non ne sia rimasto! Scusa, Lins! Sul serio! Oh, che peccato! Ho un'altra fiala! Tieni! Grazie, amiche! Cosa farei senza di voi? Ehi, Damon! Guarda cos'ho! Portalo via! Non ci cascherò di nuovo! È senza aglio? Ops! Qualcuno ha perso! Me la pagherai! Oh, la mia schiena! Spero che nessuno l'abbia visto! Ecco da dove viene tutta questa sporcizia! Cosa avete fatto voi, piantagrane? Ho appena pulito! Non potete sfuggirmi, mascalzoni! Via da qui! È tutto a causa tua! Ci sono sempre problemi a causa tua! Senti chi parla! Darò la colpa a lui! Cosa? È il fuoco! Usciamo di qui! Corriamo! Che confusione! Eh, Lins! Non avresti dovuto farlo! Cosa intendi? Quindi non sai cosa usano per spegnere gli incendi qui? Assolutamente no! La mia pelle sta bruciando! Fa malissimo! Sto bruciando! Scappiamo! Oh, sembra tutto a posto adesso! Usciamo di qui! Presto! È ora di regolare i conti, Lins! Ah! Un vampiro! Oh no! Damon! Non è divertente! È così scomodo! Sono in pausa! Damon, alzati! Hai vinto! Mi dispiace di essere stata scortese! Voglio darti questa! Allora siamo a posto! Ok, tregua! Vuoi provarla? Con piacere! Finalmente dormirò un po'! Di sicuro! Abbastanza comoda! Non vuoi chiudere il coperchio? Ok, lo farò da solo! È ancora meglio! Non perdo mai! La festa è finita! Sogni d'oro, Damon! Cosa sta succedendo? Ehi, fammi uscire! D'ora in poi nessuno mi disturberà più! Ehi, ragazzi! Sì, signora! Come possiamo aiutarti? Oh, soldi! Ecco qui! Rimuovete questa per me! Portatela qui, ragazzo! Capito! Sarà fatto! Eccellente! Solleviamo! Oh! È pesante! Posizionala qui! Ho trovato questa nel magazzino! Vuoi dare un'occhiata? È tutta tua! Sangue! Nessuno mi ostacolerà! Sogni d'oro! Sogni d'oro! Ciao, ciao! Oh, ecco il mio tesoro! Aspetta! Cosa sta succedendo? Dottore? Cosa sta succedendo? Dove è andato? Oh, silenzio! Ho dimenticato qualcosa! Mi serve un litro di B positivo! Ed ecco la chiave del cuore di un vampiro! Penso che sia tutto! Spero solo di non aver dimenticato la chiave! Dove stai andando? Verrò a prenderti! Per ottenere la chiave potrai aver bisogno di diventare un medico! Penso di poterlo fare! Anche questo uniforme può essere elegante! Quanto ancora? Cavolo! Dov'è la mia chiave? Dottore, per favore, aiutaci! Non toccatemi! Abbiamo aspettato tutto il giorno! Per favore, controlla la mia mano! Silenzio, basta! Andiamo nel mio studio! Di chi è stata questa idea? Dottore, io... Yade, yade, yade! Sembra gustosa! Che fortuna! E io? Sono qui da stamattina! Se continuano così avrò bisogno di un dottore anch'io! Piano! Ciao, dottore! No, non quello, lo strumento! Le mie scuse! Ah, scotta! Prendi! La prima incisione! Brucia! E' argento! Non posso! Cosa? Che precisione! Come hai fatto? Mi dispiace, com'è nuovo? Sei fuori di testa! E' l'antisettico! Basta! Consegnami il sangue! Oh, ne vorrei un po'! Oh! Lo farò da solo! Chiusura dell'incisione! Oh, hai delle abilità! Ottimo lavoro! Oh, mi sento così debole! Cosa c'è che non va? I tuoi occhi sembrano strani! Non dormi abbastanza? Smettila! Com'è sensibile? Com'è la pressione? Strano! Solo due battiti! E io? Oh, no! Controllo se respira! Lasciami stare! Sta parlando, quindi respira! Com'è possibile? Non si riflette nello specchio! Ho sicuramente bisogno di aiuto! Seguimi! Questo metodo non mi ha mai deluso prima! Sei decisamente malato, amico! Devo controllarti la temperatura! Come fai a stare in piedi? Controlliamo la gola! Apri! Smettila di muoverti! Di solo... Ah! Ok, l'hai voluta tu! Ah! Faresti meglio a non dirlo a nessuno! Lo sapevo! Sono il più grande fan dei vampiri di sempre! Oh, mio signore, trasformami in un vampiro! Solo un morso, per favore! Non ti mordo! Ah, un altro aspirante! Penso che sia ora di fare una pausa! Che giornata faticosa! Che scomodità! Dov'è la mia bara? Ma aspetta un secondo! Forse qui sarà più comodo! Non ci siamo! Perché non ci sono bare qui? Maledizione! Ma so che questo armadio andrà bene! Non preoccuparti! Ti fai solo dei respiri profondi! Non funziona! Bevi un po' d'acqua! Dovrebbe aiutarti! Dai! Serve un altro modo! Signorina, togli la giacca! Vado a prendere delle medicine! Va bene! Cosa? Ancora? Non svegliatemi! Oh! Il singhiozzo è sparito! Grazie, dottore! Cosa stavi facendo lì dentro? Perché ti importa? Cosa ridi? Oh! Non riesco a girarmi! Puoi aiutarmi? Mi prenderò io cura di lui! È più facile che ruare le caramelle a un bambino! Oh! La mia schiena! Non avrei dovuto dormire su quel tavolo! Ecco! Così va meglio! Grazie! Non mi fa più male! Mi hai davvero aiutato! Perché se n'è andato? Mi stavo per prendere cura di lui! Scusa! Ho fatto io! Oh! Questa tizia! Vuoi aiutarmi? Certo! Siediti! Qual è il problema? La mia gamba è molto pruriginosa! Non so cosa fare! È di legno! Come può prudere? Hai le termiti! Non ti lavi le gambe! Cosa devo fare adesso? Dammi un minuto! Vediamo chi c'è qui! Oh sì! La prendo in prestito! Aspetta no! Sembra che sia della tua misura! Ecco qua cenerentola! Devo farla vedere agli altri! Ecco un souvenir per te! Non ho mangiato niente! Ho urgentemente bisogno di trovare del sangue! Ma dove? Questi dottori hanno sicuramente una scorta da qualche parte! Nemmeno io mostrerei un simile tesoro! Ehi! Stai cercando questo? Oh! Zero positivo! Assolutamente no! Solo dopo il marzo! Mi stai prendendo in giro? No! Te l'ho già detto! È troppo difficile per te? Ok! Lo berrò tutto da solo! Tienine un po' per me! Sapevo che c'era una scorta nascosta qui! Ah! La mia unghia! Aiutatemi ad aprire la cassaforte! Premete il pulsante mi piace diecimila volte! Se non lo fate, farò saltare in aria questo ospedale! Oh! Molte grazie! Ho perso la voce! Non posso cantare! Ho un concerto oggi! Solo un secondo! Questo ti aiuterà a ritrovare la voce! La! E questo è il tuo modo di dire grazie! Scusa, non volevo! Non preoccuparti, ho un'idea! Sorridi! Cosa hai fatto io? Oh! Ho capito! La la la! Dottore, sei il migliore! Ma adesso vai! Ehi, amico! Ehi! Un lupo mannaro! Vampiro, è molto tempo che non ci si vede! Non adesso! Cane cattivo! Cattivo! Smettila! Stai calmo! Guarda cos'ho! Asso! Asso! Bravo, cagnolino! Cosa sta succedendo qui? Fa il solletico! Penso che l'infermiera non sappia leggere! Scusa, me ne vado! Come stai? Sei fortunato ad essere qui! Riposati un po'! Chiama se hai bisogno di qualcosa! Bene, bene, bene! Lo stavo proprio aspettando! Lo condividi con me? Che schifo! Lo preferisco fresco! Cosa? L'ho svuotato completamente! Oh no! Cosa fare? Eureka! Dovrebbe funzionare! Ti senti meglio? Vediamo, questo ragazzo è stato morso da un vampiro! Alla flebo, dobbiamo solo contrastare gli effetti del morso! Mi serve l'acqua all'aglio! Alla flebo, dobbiamo solo!